Buonasera, abbiamo questa edizione di Ultima Tg con la notizia del corpo ritrovato del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, che era scomparso sabato sera nel nubifraggio che si è abbattuto nella provincia di Palermo. Dopo oltre 4 giorni di ricerca il cadavere è stato rintracciato nel territorio di Roccamena, appunto nel palermitano e nel vigneto in particolare di un'azienda agricola allagata. Il corpo è stato ritrovato a 8 km dal punto in cui è stata anche rintracciata l'auto e quindi vicino al ponte Drago. Sentiamo il servizio. Dopo 5 giorni di ricerca è stato ritrovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso sabato sera nel nubifraggio che si è abbattuto in provincia di Palermo. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato in territorio di Roccamena nel vigneto di un'azienda agricola allagata dall'esondazione del fiume Belice. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della Polizia di Stato che era partito questa mattina dall'aeroporto di Bocca di Falco. Ho sentito l'elicottero mentre lavoravamo perché io sono sull'altro lato della strada e quindi ho visto che si è abbassato l'elicottero però dagli alberi non si notava perfettamente. Pensavo avesse risolto qualcosa perché si è abbassato moltissimo e presupponevo che potrebbe essere anche qualche abito mio perché di solito io lascio facilmente degli indumenti in giro e quindi non ho fatto neanche troppo caso visto che è andato via. Poi sono dovuto andare in paese nel frattempo è arrivata la polizia e allora si è capito che in paese mi hanno detto che era stato fatto il ritrovamento. Il cadavere era in località Frattina al confine tra Roccamena e Monreale a circa 10 chilometri da dove è stata ritrovata l'automobile del medico. La persona è stata ritrovata priva di vestiti, di indumenti questo perché è stata travolta da questa massa d'acqua che lo ha letteralmente spogliato per cui lungo il greto abbiamo trovato vari indumenti mentre la persona è stata trovata appunto nell'area qui alla mia destra priva di indumenti. Il cadavere sballottato dalla furia dell'acqua avrebbe perso una gamba scontrandosi con una roccia. La moglie, anche lei medico, ha presa la notizia tra le lacrime e ha chiesto di vedere il corpo del marito. Messaggi di cordoglio da tutte le istituzioni, dal presidente della regione musumeci al sindaco della città metropolitana Luluc Orlando. Una vicenda terribile che ha colpito tutti, ha colpito tutti perché siamo in presenza appunto di un professionista stimato, amato, benvoluto che si recava al lavoro per garantire l'assistenza notturna all'ospedale di Corleone. Credo che è un'altra ferita che resta aperta e che io credo debba rimanere aperta fin tanto che non si trae da queste tragedie un monito di insegnamento per mettere in sicurezza il nostro territorio. L'ASP di Palermo dove lavorava il medico ha deciso di intitolargli il reparto di pediretia dell'ospedale dei Bianchi. L'ordine dei medici intitolerà alla sua emoria una strada di Palermo vicino alla sede istituzionale. Giuseppe Liotta lascia una moglie e due figli. Sulla vicenda di Giuseppe Liotta sentiamo anche l'intervista al maggiore dei carabinieri di Palermo, Augusto Ruggeri. Le ricerche si sono protratte interrottamente in questi cinque giorni. Abbiamo seguito quella che era la direttrice che ci veniva indicata sia dal deflusso delle acque e del fango che anche dai resti dei vestiti che sono stati rinvenuti in questi giorni. Le squadre a terra erano coadiuvate da squadre imbarcate su degli elicotteri che proprio questa mattina intorno alle nove e mezza hanno segnalato questa posizione in località Ponta Aranci del comune di Corleone dove le squadre a terra poi intervenute hanno rinvenuto il cadavere del Liotta. Il cadavere è stato ritorto senza vestiti che saranno stati tolti dall'impeto della corrente. È ancora in corso l'esame da parte del medico legale con i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche. Sul ritrovamento del corpo del medico palermitano è intervenuta con una nota anche la Nao Assomed Sicilia. Siamo profondamente sconvolti dalla tristissima notizia del ritrovamento del corpo del nostro collega Giuseppe Liotta a Corleone. Sebbene non ci fossero praticamente più speranze di trovarlo in vita, fino alla fine abbiamo pregato che non fosse così increduli del fatto che nel 2018 si possa morire in circostanze simili nella nota. Parla così la segreteria regionale della Nao Assomed Sicilia guidata dal pediatra Toni Palermo. L'associazione annuncia che resterà accanto alla moglie, la collega Floriana e ai loro due bambini anche in futuro affinché venga garantito loro il massimo del trattamento pensionistico possibile e chiederà alle istituzioni che vengono estesi anche a loro i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere. Incidente mortale questo pomeriggio a Palermo. Un pedone Giovanni Testaverde di 50 anni è morto travolto da un bus della linea 101 dell'AMAT. L'incidente è avvenuto in Via Libertà, all'altezza di Via Messina, in pieno centro. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima quando è stata investita non stava attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto sono subito intervenuti i vigili urbani, polizia e un'ambulanza del 118. Ma per l'uomo morto su colpo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione, che ora dunque è definitiva, di Francesco Cascio, ex presidente dell'Arsa, accusato di corruzione. L'ex esponente dell'NCD, ora di Forza Italia, in primo grado aveva avuto due anni ed era decaduto dalla carica per effetto della legge Severino. Spostiamo a Catania, dove la Corte dei Conti ha decretato ufficialmente il dissesto del Comune. I magistrati di Roma hanno rigettato il ricorso presentato lo scorso settembre dall'amministrazione comunale. Una decisione che ovviamente getta l'amministrazione comunale nello scoramento e segna definitivamente il deforso. Il dissesto del Comune di Catania è diventato realtà, a decretarlo ci hanno pensato i magistrati romani della Corte dei Conti, rigettando il ricorso presentato a Palazzo degli Elefanti attraverso l'avvocato Agatino Cariola. È stato l'estremo tentativo di evitare le dichiarazioni default. Nel documento il professionista aveva chiesto l'annullamento della decisione presa nel maggio scorso. Il debito del Comune ammonta oggi 1 miliardo e 580 milioni di euro, dato contenuto nella deliberazione 154 del 2018. notificata lo scorso 23 luglio all'amministrazione. Nel corso dell'estate la promessa del Governo nazionale era stata garantita dal sottosegretario leghista Stefano Candiani. L'obiettivo era ottenere un contributo economico immediato in attesa di avere la certezza a dicembre attraverso il decreto 1000 proroghe. Il sindaco Pogliese aveva anche rivolto un appello attraverso una lettera accorata al premier Giuseppe Conte e alla coppia Salvini Di Maio. Adesso sarà l'assessorato regionale agli enti locali a intimare all'amministrazione comunale di deliberare il dissesto. Da votare poi in Consiglio. Prevista poi la nomina da parte della Prefettura di un organismo speciale per la liquidazione, l'OSL, che gestirà una sorta di procedura fallimentare. Il sindaco e il Consiglio Comunale resteranno in carica. In realtà c'è ancora una carta da giocare a proposito del dissesto del Comune di Catania. L'obiettivo da parte dell'amministrazione comunale e dunque della città è quella di ricevere almeno un'anticipazione sul contributo regionale. Si tratta circa di 30 milioni di euro per pagare almeno gli stipendi di ottobre dei dipendenti comunali. Sentiamo cosa ha detto a questo proposito e non solo il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Noi chiediamo un'anticipazione. Non possiamo chiedere alla regione siciliana un contributo a fondo perduto, ma un'anticipazione necessaria per eliminare un dramma sociale nella nostra città. Immaginare 10 mila famiglie senza stipendi per tre mesi, credo che rappresenti davvero una prospettiva di particolare gravità che nessuno vuole registrare all'interno della nona città d'Italia e quindi Musumeci, sono convinto, sarà sensibile rispetto alle nostre istanze. Sapevamo perfettamente che era una missione molto difficile, ma abbiamo lottato come era giusto fare pancia a terra all'interesse esclusivo della nostra città, facendo approvare due emendamenti all'interno del mille proroghe, facendo approvare prima in Giunta e poi in Consiglio Comunale le misure correttive coerentemente con quello che ci aveva chiesto la Corte dei Conti, facendo un ricorso attribuendolo ad una delle persone migliori per poterlo presentare dinnanzi alla sezione riunita della Corte dei Conti, quale certamente è il professore Agatino Cariola. Ma la Corte dei Conti ha con chiarezza tracciato una linea di demarcazione rispetto al passato. Questo è il momento nel quale ci sono espressioni diverse, comunicazioni diverse, ad esempio c'è quella del consigliere Lanfranco Zappalà che ieri ha fatto una nota nella quale dice che se c'è la possibilità di approvare un piano di riequilibrio entro il 30 la salvezza ci può ancora essere. Il mio amico Lanfranco Zappalà evidentemente non si è documentato come era opportuno fare. Noi all'interno del ricorso predisposto al professore Cariola avevamo inserito l'emendamento approvato all'intero del Mille Proroghe. La Corte dei Conti sostiene che non può essere utile poiché nel 2017 e nel febbraio 2018 il Comune di Catania avrebbe potuto utilizzare altre norme, non l'ha fatto, una volta con due giorni di ritardo, una volta non si è proprio avvalso di questa opportunità e quindi non potevamo come Comune immaginare questa strada. Quindi game over. Stamattina si è tenuto un sopralluogo del Presidente nazionale della CIA agricoltori italiani Dino Scanavino nei territori della Sicilia orientale che sono stati nei giorni scorsi fragellati dal nubrifragio. L'obiettivo è quello di ottenere degli aiuti da parte del Governo regionale e nazionale. Fare il punto dei danni causati dal maltempo alle aziende agricole è l'obiettivo del Presidente nazionale della CIA agricoltori italiani Dino Scanavino che ha effettuato un sopralluogo nei territori colpiti dal nubifragio dello scorso 18 ottobre, in particolare Scordia, Francofonte, Lentini, Palagoniera, Macca e Mineo. Scanavino ha partecipato alla riunione di giunta straordinaria della CIA Sicilia orientale convocata dal Presidente Giuseppe Di Silvestro nella sede della protezione civile di Scordia dove i sindaci hanno consegnato il documento contenente le richieste fatte al Governo regionale e nazionale. Si chiede nello specifico che venga proclamato lo stato di calamità ed emergenze che vengono messe in atto misure straordinarie per i territori colpiti come il depristino negli argini dei fiumi, il riassetto delle strade e aiuti di natura economica per le aziende. Noi porteremo immediatamente al Governo la cronaca di un altro disastro annunciato perché in una situazione meteorologica nota noi non abbiamo il territorio con una manutenzione adeguata a far fronte a precipitazioni che in qualche modo si potevano prevedere così copiose. Questo è stato il vero dramma, non tanto le precipitazioni copiose ma la mancata manutenzione di un territorio che fa tanti sacrifici per essere produttivo, per dare un contributo alla nazione e riceve davvero troppo poco dalla politica e dall'amministrazione. E sui danni che derivano dal maltempo e che spesso mettono in ginocchio il nostro territorio proprio stamattina si è svolta a Lars un incontro del Lanci Sicilia all'Associazione dei Comuni al quale hanno preso parte un centinaio di sindaci che hanno discusso insieme al Presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Mici che sulle problematiche legate al rischio idrogeologico ma anche all'abusivismo. Sentiamo Luca Licata. Chiedono maggiore cooperazione tra le istituzioni sindaci dei comuni siciliani andando oltre il disegno di legge governativo sull'abusivismo presentato ieri dal Presidente della Regione ed è durante un incontro tenutosi in mattinata all'Assemblea regionale siciliana che il Lanci Sicilia ha portato all'attenzione del Presidente dell'Arsa Gianfranco Mici che diverse problematiche legate al tema del dissesto idrogeologico e alle condizioni di estrema fragilità delle infrastrutture del territorio. Fortemente criticato poi il DDL del governo musumeci perché scarica le responsabilità sui sindaci. Continuiamo a giocare con l'emozione dei sindaci? Continuiamo a pensare che possesse scaricare le responsabilità caricandolo sui sindaci? Quando con un DDL come questo si investe complessivamente per risolvere il problema dell'abusivismo in Sicilia, un milione di euro probabilmente non si è capito nulla non si è capito di cosa stiamo parlando. Oggi i sindaci hanno una difficoltà a controllare il territorio da un punto di vista dei rischi del dissesto idrogeologico e questo non dipende solo dal fenomeno dell'abusivismo dipende da una pluralità di cause. Bisogna interrogarsi su quello che avviene nella fase della demolizione in termini di costi e di impatto sul territorio proposto che molti sindaci hanno già proceduto in questa direzione. E tra i comuni maggiormente colpiti dal maltempo che la scorsa settimana ha investito la provincia di Palermo vi è quello di Prizzi con la borgata di Filaga che è stata sommersa dall'acqua. Non pensavo minimamente che potesse accadere un fatto del genere. Le piogge del venerdì e del sabato hanno messo a serio il rischio e a repentaglio le vite degli abitanti della borgata di Filaga perché l'acqua che è caduta dalla montagna oggi si è trasformata a un fiume di più di 7 metri di larghezza con una profondità di più di 2 metri. Ci auguriamo che anche questa prima riunione di oggi possano scaturire degli interventi immediati perché se così non dovesse essere il problema si ripeterà e sicuramente non saremo qui a parlarne ma a piangere delle vite umane. Ed è stato sottoscritto a Vipiteno in provincia di Bolzano l'accordo tra il gruppo russo Morosoli Leitner per la costruzione della nuova funivia dell'Etna. Nuove cabine, riqualificazione delle stazioni di arrivo e di partenza ad Etna Sud. Siamo andati a vedere. La nuova funivia dell'Etna sarà una delle più moderne ed efficienti esistenti al mondo maggiore portata, impatto ambientale limitato, ecosostenibilità, risparmio energetico e accesso facilitato sono le caratteristiche dell'impianto che sarà costruito all'interno degli stabilimenti Leitner di Vipiteno l'azienda leader del settore dove intanto è stata siglata l'intesa che porterà alla realizzazione della nuova cabinovia interamente finanziata con capitali privati del gruppo russo Morosoli. Per la prima volta dal 1953 la funivia dell'Etna viene ammodernata e ricostruita interamente e questo non dovuto a un fatto eruttivo quindi ad un evento lavico. Questo impianto funiviario è di nuovissima concezione e quanto di più tecnologicamente avanzato ci sia al momento sul mercato ridurrà al minimo l'impatto ambientale perché già solo i sostegni sono stati dimezzati passeremo da 1200 persone ora a 2000 persone ora e questo senza appesantire l'impatto ambientale questo farà sì che il turista viaggerà in una cabina a 10 posti molto più spaziosa, molto più ampia con un comfort sicuramente maggiore. L'accordo è stato sottoscritto da Francesco Russo Morosoli a capo dell'omonimo gruppo accompagnato dal project manager Simone Lograsso e dalle direttore d'esercizio Sergio Sottile e dall'amministratore delegato di Leitner Martin Leitner alla presenza del direttore commerciale Giorgio Pilotti. Abbiamo appena sviluppato questa nuova cabina a 10 posti assieme a Pininfarina che per la prima volta avrà delle porte scorrevoli molto più spaziosa rispetto al progetto attuale ed è chiaramente anche a livello di manutenzione un netto miglioramento. Con la realizzazione della nuova cabinovia si rinsalda il quarantennale accordo tra le due aziende iniziato con la costruzione dell'attuale funivia voluta da Gioacchino Russo Morosoli. Abbiamo scelto Leitner oltre che per i rapporti ormai quarantennali che ci legano infatti già mio padre prima di me aveva realizzato gli impianti con questa società perché comunque Leitner è un sinonimo di garanzia essendo l'azienda leader al mondo nella costruzione degli impianti a fumo. Ho visto veramente una tecnologia all'avanguardia le nuove cabine Evolution del modello Diamond sono bellissime e quindi realizzeremo un impianto veramente bello. 35 cabine dal design essenziale in armonia con l'ambiente e più resistenti al vento e solo 12 sostegni, in pratica la metà di quelli esistenti. Un progetto in chiave ecosostenibile che prevede la riqualificazione delle stazioni di partenza e di arrivo e l'offerta di servizi migliorati per turisti e viaggiatori. Posso già anticipare che ci sarà tutta una riqualificazione delle stazioni e anche della vecchia stazione, quella del 1953, unica a essere sopravvissuta agli eventi distruttivi del nostro vulcano e che saranno tutte riqualificate dando parecchi servizi al turista che al momento non è possibile rendere. Una firma importante che libera nuovi e consistenti investimenti privati nel territorio a vantaggio dell'economia turistica e del suo indotto. Siamo molto orgogliosi che possiamo continuare con questi ultimi sviluppi fatti e poter realizzare assieme questo progetto ambizioso della nuova telecabina a 10 posti sull'Etna. Fra l'impianto meccanico e le opere civili realizzeremo una delle stazioni più moderne d'Europa. E stasera la prefettura di Catania ha ospitato un incontro con il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket che è il prefetto Domenico Cuttaia che ha incontrato il prefetto di Catania Claudio San Martino. Al centro dell'incontro temi fondamentali per la lotta al racket e all'usura come per esempio gli strumenti dello Stato per prevenire e combattere il fenomeno ma anche il valore delle denunce da parte dei taglieggiati. Sentiamo Maria Schilliro. Prevenzione e contrasto dei fenomeni di estorsione. Sono questi i temi che hanno caratterizzato l'incontro alla prefettura di Catania tra il commissario straordinario del governo per il coordinamento dell'iniziativa anti-racket ed usura Domenico Cuttaia e il prefetto Claudio San Martino. Un'occasione per discutere sulle modalità di intervento dello Stato a tutela delle vittime di estorsione e per sottolineare il valore della denuncia. Lo Stato ha ampiamente sotto controllo l'attività delle associazioni anti-racket e anti-usura perché l'ufficio del commissario le monitora attraverso le prefetture. Le associazioni medesime anche se non iscritte negli elenchi prefettizi possono svolgere lo stesso alla relazione di promozione della legalità sul territorio. C'è tutto un apparato. Vuoi di vigilanza da parte delle prefetture, Ministero dell'Interno, commissario anti-racket e anti-usura. Vuoi da parte degli organi di polizia giudiziaria e della magistratura il quale fa sì che l'attività di queste associazioni si svolga nell'interesse esclusivo delle vittime e per il perseguimento di interessi generali. Laddove poi ci dovesse essere un qualche dubbio, un qualche sospetto, una qualche titubanza, tutte le persone interessate sono invitate a esternare, a rappresentare questi dubbi. Quindi c'è bisogno della collaborazione di tutti da questo punto di vista. La collaborazione, la cooperazione con il commissario straordinario e con le forze dell'ordine della magistratura testimoniano che il sistema funziona. Questo deve essere un segnale di fiducia per i cittadini e per i cittadini che sanno che hanno lo Stato sempre accanto a sé, soprattutto quando accadono, quando si trovano in situazioni sotto estorsione o sotto usura. Adesso qualche minuto di pubblicità, ma tornate con noi perché ci sarà lo sport. Una storia secolare alle pendici dell'Etna, la distilleria fichera dal 1871 è leader nel settore dei liquori e dei distillati, esportandoli in tutto il mondo. Crema di liquori, rosoli, amari, grappe e distillati, prodotto di punta e il fuoco dell'Etna, più forte e più buono che mai. Distilleria Fichera, via Stabilimenti 237 Santa Venerina, Catania www.distilleriefichera.it New Beca Gel opera da oltre vent'anni nel settore del trasporto alimentare per la ristorazione extra domestica. Distribuisce su tutto il territorio regionale una vasta offerta di prodotti alimentari e no food rivolgendosi al settore oreca. Assistenza pre e post vendita. Consegna giornaliera con automezzi avanzati ed omologati. di prodotti di drogheria, pasticceria, latticini, gastronomia, carne, ittici, surgelati e casalinghi. Info 095 516 977 www.newbecagel.it Cercaci su Facebook. L'ex portiere rosso-azzurro Roberto Sorrentino si racconta ai microfoni di Ultima Sport. Ricorda i 40.000 dell'Olimpico, il rapporto con il presidentissimo Massimino, ma soprattutto l'amore per questa città. Sentiamo il servizio di Ivano Teodoro. Veniamo a quel 25 giugno del 1983, stadio Olimpico di Roma, Catania-Cremonese. Una settimana prima si era disputato questo Catania-Como, gol di Crialesi. Tre giorni dopo Cremonese-Como 0-0. Catania-Cremonese diventa sfida decisiva per la promozione in Serie A insieme a Milan e Lazio. Raccontaci quei momenti. Intanto guarda, tu l'hai detto, mi vengono i brividi perché quell'anno il campionato annoverava il Lazio e Milan che vinsero di prepotenza il campionato e noi ci troviamo a fare questo spareggio con Catania come Cremonese. Anzi ringrazio ancora una volta la Roma perché poi ci mise a disposizione tutta la sua struttura, a Tricoria, al suo autista, al suo pullman, quindi fume accolto dai tifosi romanisti in modo particolare. E vincemmo la prima 1-0, ma la seconda 0-0 non finiva mai. Ma io non parlerei delle due partite, parlerei della tifoseria. Insomma, avere 40 mila spettatori all'Olimpico, non stiamo parlando di andare a Lentini, a Siracusa o a Palermo che sono qui vicino. Insomma, 40 mila all'Olimpico. E la cosa ancora più bella è che al ritorno tutta Catania era all'aeroporto. Io persino ricordo un episodio, ho due sposi, la sposa mi disse vogliamo fare la foto con lei perché ci augurano una buona fortuna di un buon matrimonio. Passarono 10 minuti, a parte che non si poteva camminare perché c'erano i cordoni di polizia perché l'aeroporto era in basso da tifosi. Una signora è stata interessante e mi disse, mi tocca la pancia perché sicuramente porta bene, diventa la calciatore anche mio figlio. Quindi sono aneddoti, episodi che rimarranno nella mia mente per sempre. Quindi c'è sempre stato un amore, anche se poi sono andato via, il calcio è questo, si cambia società. Io avevo fatto 5 anni, ho fatto anche altri 5 anni splendidi a Cagliari, due a Bologna. Però è chiaro che dove vinci, dove sei stato bene e bene, ti rimane sempre qualcosa in più. Io faccio l'allenatore, continuo a stare nel mondo del calcio, ho i figli che giocano a calcio, io finisco, chiedo che cosa hanno fatto i miei figli e che cosa hanno fatto il Catania. Poi dopo chiedo anche del Cagliari e del Bologna. Però la prima cosa, ieri sera ero in diretta a ascoltare i risultati del Catania. Quindi al di là della categoria, io dico che le categorie hanno poca valenza. L'essenziale è essere sempre professionali, essere seri e dare tutto quello che uno ha. La gente poi ti apprezza e ti ammira. Finisce 2-1 per il Catania, il derby siciliano, il recupero della seconda giornata di campionato in Serie C. A decidere la sfida contro il Siracusa, una rete nei minuti finali del capitano rosso-azzurro Marco Biagianti. Sentiamo il servizio di Giovanni D'Antoni. Poca brillantezza, qualche cenno di confusione, ma tre importantissimi punti. Nella sofferta vittoria che il Catania ha ottenuto ai danni del Siracusa nel recupero della seconda di campionato si manifestano tutte le insidie della categoria, dove anche una squadra sulla carta favorita può rischiare di incappare in scivoloni pericolosi. Gli uomini di Sottil però riescono a incidere e strappare il successo, rilanciandosi prepotentemente in alto. I primi minuti della partita si contraddistinguono per il silenzio e il meraviglioso omaggio di entrambe le curve dello stadio e le vittime della tragedia di Casteldaccia. In campo si assiste ad una partita subito vivace e poco tattica. Un'occasionissima di Aia al ventiduesimo. Difesa paralizzata viene intercettata da Messina. Le trame del Siracusa e dell'esordiente Michele Pazienza sono affidate a Catania e Vasquez. Il 9-Azzurro si rende minaccioso più volte sia di piede che di testa prima della pausa. La ripresa parte come meglio non potrebbe per i rosso-azzurri. Lancio dalle retrovie, grande giocata di Lodi che controlla e verticalizza per Marotta. Il diagonale destro dell'attaccante Fulminio. 1-0 Catania, quarto centro in questo campionato per El Diablo. Siracusa di Pazienza che si rivela essere squadra di velocisti e in contropiede porta più di un grattacapo alla difesa etnea. Vasquez e il neo entrato Diop mettono in difficoltà i centrali, così al minuto 70 si concretizza il pareggio. Catania chiude un triangolo e calcia privo di marcature. Pallone all'angolino e rete dell'1-1 che vede il numero 10 ospite. Non esultare perché è nato proprio alle pendici del Vulcano. Gli ultimi minuti del derby sono roventi, capovolgimento di fronte. Calapai si avventa su un pallone che sembrava impossibile da raggiungere, Orlando lo stende e l'arbitro indica chiaramente il dischetto. Come un anno fa sembra il Siracusa, però Lodi fallisce il penalti, il Siracusa si salva. Sembra finita, ma a pochi minuti dal novantesimo il Catania trova il vantaggio. Sull'angolo battuto rapidamente da Lodi, l'unico a farsi trovare pronto è Capitan Biaggianti che spedisce in porta di sinistro e fa impazzire il Massimino, stagione fin qui pazzesca del centrocampista Etneo. Dopo sette minuti di recupero gli Etnei festeggiano, tre punti e vittoria ritrovata, gli uomini di Sottil tornano a correre e attendono sempre al Cibali domenica il Catanzaro. Chiudiamo così la nostra edizione serale di Ultima TG. Grazie per averci seguito fino a questo punto e buona serata. Grazie per aver guardato il video.